Abbiamo un po' di tempo per la fine perché tutti sapevano che era molto importante oggi perché domani mattina sembra che le condizioni siano molto brutte, però abbiamo avuto un problema con un freno della moto e quindi sono riuscito a fare l'ultimo giro al pelo, sono stato fortunato perché sono passato con 10 secondi quindi è andata bene, poi ho fatto un buon giro e quindi è molto importante essere nei primi 10. Poi comunque anche il mio passo è abbastanza buono, come primo giorno sono piuttosto veloce, naturalmente c'è da lavorare molto anche sulla scelta delle gomme così però dai non è male.